Sono la figlia di David Clark. Porterò questo peso ovunque andrò. Hai delle brutte carte in mano, ma puoi giocartene meglio di così. Sei più intelligente delle altre, soprattutto di Emily Torno. Ma la violenza è una soluzione inefficace se vuoi farla pagare davvero ai tuoi nemici. Proprio come ci sono due versioni in ogni storia. Io, sei proprio tua. Ci sono due lati in ogni persona. Emily Torno non è quella che dice di essere. Frank? Quello che mostriamo al mondo è l'altro che teniamo nascosto dentro di noi. Ma chi sa sfumare la linea del confine morale detiene il vero potere. Revenge, la prima stagione, lunedì alle 21.30. Solo su DJTV.